ciao oggi vogliamo parlare di un ferro da stiro oggi parliamo di stiro vi vogliamo fare conoscere molti di questo marchio lo conoscono da anni che è il marchio iura giagua la nuova linea di ferri da stiro a vapore che cosa hanno di diverso da tutti i ferri tradizionali a vapore intanto sono dei ferri da stiro molto molto maneggevoli che hanno un buon peso hanno la caratteristica di avere il manico leggermente inclinato in modo che la mano non sforzi quando rimane quando va nel movimento dello stiro quindi è pesante ma rispetto a tutti gli altri non devo spingere quindi io l'accompagno semplicemente senza fare fatica la caratteristica fondamentale di questi ferri è la piastra che rispetto a tutti gli altri ferri non so se si vede che si riesce a vedere ha ancora una piastra tradizionale dove ha i fori pochi fori per il vapore e una bella zona stiro questo qui serve per poter stirare veramente bene quindi il vapore che va in umidire la piastra del ferro che va a stirare in più hanno la punta riscaldata questa parte qui che vi faccio vedere è una punta riscaldata che serve quando devo lavorare nei bordi nei bottoni insomma è proprio conformato in modo tale che riesca a stirare con maneggevolezza con una buona piastra pesante perché così il cotone viene stirato molto bene senza fare fatica le caratteristiche che li differenziano da tutti i ferri da stiro normali è prima di tutto il consumo loro sono gli unici ferri da stiro che consumano solo 1600 watt dico solo perché se guardate i vostri ferri da stiro più comuni delle marche più commerciali vedrete che lavorano dai 2000 ai 2400 watt questo perché fa sì che loro abbiano un risparmio di luce così alto è garantito dalla qualità della piastra che accumula molto meglio il calore rispetto alle piastre tradizionali questo è proprio un po un ferro che lo vogliamo dire fatto un po come quelli di una volta dei ferri buoni con dei buoni materiali pesanti tradizionali le linee sono diverse perché si parte dal modello più comune che ha la punta riscaldata la piastra naturalmente in inox anti che non attacca adesso la parola non mi veniva e hanno tutti il vantaggio di poter essere utilizzati con l'acqua di rubinetto cioè proprio l'acqua semplice di rubinetto niente di stillata e così perché loro la digeriscono molto bene l'acqua anche con il suo calcare perché hanno il dispositivo che ogni tanto va la classica spilla pulita pulita in punta si lava con un pochino di anticalcare quando faccio questo movimento lui sgorga giù tutta l'acqua rimasta butta fuori anche quello che è il calcare ed ecco che io posso utilizzare l'acqua di rubinetto che fa un vapore più corposo ma non crea problemi al ferro da stiero le versioni nuove questa che il modello più grosso il modello di gamma più grosso anche un vantaggio ulteriore che ha naturalmente nel gettito davanti dove io spruzzo con il mio tasto sotto spruzzo l'acqua posso scambiarlo posso con questo tasto scambiarlo e far uscire o l'acqua se devo inumidire o un gettito di vapore pretrattante quindi spruzzando il vapore pretratto il tessuto prima di stirare e lavoro benissimo le ruotine dietro per le ruotine finte ruotine per poterlo alzare comodamente senza doverlo tirare su di peso e girare insomma questi hanno ferri da stiero hanno acqua di rubinetto hanno sono pesanti ma sono molto molto maneggevoli veniteli a sentire perché non vi sembra neanche di stirare quindi piastra in acciaio inox lucido che è comodissima anche da pulire non attacca punte riscaldate facilità di pulizia grazie alla sua spilla che sollevo eccola qua ci bisogna metterlo in posizione scusate perché ha la posizione della spilla dopo poi naturalmente quando venite vi spiego bene perché eccola qua pulizia dell'anticalcare bassissimi consumi solo 1600 watt e unici ferri da stiro tradizionali a vapore con tre anni di garanzia tre anni di garanzia la nuova linea jagua iura ha tre anni di garanzia venitevi a sentire in negozio li abbiamo disponibili ho piacere che veniate a sentire qua come sono sono veramente dei ferri buoni e molto molto durevoli vi aspetto il negozio naturalmente nello stiro voi sapete che noi siamo ben forniti tra stirelle professionali e tutto ci trovate il negozio vaccare elettro casa creva il core li trovate anche sul nostro shop www.vaccareelettro casa.it per ogni informazione vi aspettiamo ciao a tutti ciao ciao